pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo arrivati all'ultima domenica del tempo pasquale prima delle due grandi solennità conclusive l'ascensione e la pentecoste gesù ha annunciato il suo esodo da questo mondo al padre e ciò suscita domande tra i discepoli la domanda di giuda che precede il nostro brano è particolarmente interessante signore perché ti sei manifestato noi e non a tutti come a dire perché non ti mostri pubblicamente in modo evidente non sarebbe più facile la risposta di gesù come al solito è su un altro piano quello della relazione e della conversione se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui dio non è appariscente evidenza ma nascosta presenza dio non cerca di dare spettacolo cerca a cuori dove dimorare dio che abita in cielo in terra in ogni luogo che in gesù si è fatto uomo l'infinito che si fa piccolo nel pane eucaristico sta di casa dove lo si accoglie prende dimora in chi lo ama già nell'esperienza quotidiana quando ti senti amato con quella persona ti senti veramente a casa chi ti ama diventa per te rifugio nido riposo del pensiero gaudio del cuore puoi avere un pezzo di pane a tavola ma con essa sei felice puoi vivere in una casa vuota con due materassi e un bagno ma con lei hai tutto viceversa puoi avere la casa più bella del mondo ma se non c'è amore se non ci si comunica amore se non ti senti amato ti senti un estraneo un fuoriluogo l'amore in fondo è ciò che fa sentire a casa se ciò pur nella sua limitatezza è vero nelle relazioni umane tanto più è vero e può giungere a pienezza nella relazione con dio non solo il credente è colui che trova in dio la sua dimora ma dio stesso prende dimora nel credente che mistero grande perciò santa chiara da sisi scrisse ad agnese mentre i cieli con tutte le altre cose create non possono contenere il creatore l'anima fedele invece ed essa sola e sua dimora e soggiorno e ciò soltanto a motivo della carità di cui gli empi sono privi è la stessa verità che lo dice colui che mi ama sarà amato dal padre mio e io pure lo amerò e noi verremo a lui e porremo in lui la nostra dimora si possono capire queste cose soprattutto si possono vivere si possono sperimentare aprendo il cuore a gesù prendendo sul serio la sua parola e per così dire queste cose si possono anche vedere guardando con occhi profondi la vita di coloro che sono dimora di dio cristiani veri belli sacerdoti frati suore laici grandi e piccini portatori di tanta bellezza innamorati di dio e amanti degli altri ma l'amore miei cari non è riducibile alle sole parole ai volubili sentimenti o ai bei ragionamenti l'amore si vive lo si accoglie e lo si comunica ecco perché gesù stabilisce un collegamento tra l'amore e l'osservanza delle sue parole se uno mi ama osserverà le mie parole osserverà aperto al futuro non una fredda imposizione ma quasi un dato di fatto una conseguenza dell'amore resa possibile dalla grazia dello spirito santo perciò santa teresina diceva vivere d'amore e custodirti verbo increato parola del mio dio lo spirito santo d'amore mi incendia col suo fuoco amando te attiro il padre che il mio debole cuore conserva senza scampo o trinità sei prigioniera del mio amore la nostra relazione con gesù passa per questa adesione alla sua parola siamo chiamati a custodire noi la sua presenza tenendo strette in noi le sue parole nella vita miei cari alcune cose le teniamo strette custodiamo ricordi di persone care cose belle vissute parole belle ricevute ecco in un certo senso questa è la relazione che dio vuole con noi che lo abbiamo a cuore che teniamo le sue parole nel cuore nella parte più intima di noi c'è un luogo dove dio vuole abitare e avere lì una dimora stabile non una casa in affitto per questo è bene chiederci ma quanto amo veramente gesù le sue parole ogni giorno cerco di leggere e meditare il vangelo provo a memorizzare almeno una frase di gesù provo a custodire in me le sue parole vedete il nostro rischio è sempre quello di scindere questi due aspetti l'amore e l'osservanza concreta delle parole di cristo pensare di amare dio senza seguire le sue parole o ridurre il rapporto con dio all'osservanza di quattro regole senza amore che in entrambi i casi valgono le parole di dio per mezzo del profeta esaia questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me ad esempio quanti si dicono credenti non praticanti sarebbe come a dire credo di conoscere quella persona ma non la frequento mai credo di essere fidanzato ma lei non lo sa credo che quello sia un buon medico ma non faccio mai quello che mi dice insomma il credente non praticante non è una categoria cristiana come posso dirmi credente se manca la fiducia concreta in gesù e nelle sue parole sarò pure credente in qualcosa ma non veramente cristiano ad esempio se gesù ha detto chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna chi non ne mangia non ha la vita eterna c'è poco da girarci attorno o credo o non credo se so che nella messa gesù sta donando nuovamente se stesso per me è come se nulla fosse preferisco zappare l'orto o fare zapping alla tv ma di quale amore sto parlando il sapersi amati porta ad amare e l'amore spinge a fare ciò che l'altro di bello desidera ciò che di buono ti dice è importante tornare alla concretezza del vangelo alla grazia di dio quella ci salva dall'altra parte dobbiamo stare attenti a non pensare che l'amore per dio consista nell'osservanza esteriore delle regole o nella pratica superficiale dei riti religiosi ed ecco qui giusto per fare un esempio i praticanti non credenti che hanno ridotto tutto al fare la comunione magari solo una volta all'anno per la novena del santo patrono ma hanno perso di vista l'amore al prossimo dimenticando che quello stesso gesù che ha detto prendete e mangiate questo è il mio corpo ha pure detto quello che fate agli altri lo fate o non lo fate a me per cui magari partecipano all'eucaristia ricevono la comunione sulle mani poi come se nulla fosse con quelle stesse mani opprimono i poveri accaparrano avidamente beni ed eredità sfruttano gli immigrati vedi il caporalato sottopagano o non pagano dipendenti e fornitori vivono una doppia vita alimentano guerre divisioni avallano sistemi corrotti fino a quelle aberrazioni un po più tipiche qui da noi al sud della serie bacio il santino in chiesa accendo il lumino mentre in paese faccio il padrino insomma cari fratelli e sorelle tutto gira attorno all'amore vero amore accolto e comunicato custodendo e vivendo le parole di gesù si vede se amiamo dio da come viviamo si vede che lo amiamo perché con tutti i nostri limiti cerchiamo di custodire e osservare la sua parola qui non si tratta di essere infallibili ma credenti credibili chiamano gesù che vivono secondo il vangelo la cui indicazione più pregnante è ama in fondo si vede se amiamo dio dal fatto che amiamo ed è lo spirito santo quel meraviglioso maestro interiore che porta avanti in noi questa opera che gesù annuncia così che nessuno dica ma io come farò e lo spirito santo che incide nel cuore le parole di gesù che le ricorda insegnandoci volta per volta come viverle ispirandoci dal di dentro come amare e allora man mano che cammini con gesù nella chiesa ti rendi conto di una cosa meravigliosa chiamare dio non è sforzo ma grazia che egli nulla toglie ma tutto dona che il suo santo spirito dilata il nostro cuore potenzia la nostra capacità di amare perché tutti specie i soli e gli ultimi in noi e nelle nostre comunità cristiane possano sentirsi a casa amati di un amore che ci precede ed eccede in fondo il signore non ci chiede cose assurde ci dice solo se mi ami osserverai le mie parole e io ti prometto che il tuo cuore diventerà un pezzo di cielo abitato da me già qui sulla terra o come reinterpretò santa teresina di lisie chi vuole amarmi osservi la mia parola fedelmente e io il padre verremo a visitarlo prenderemo dimora nel suo cuore ne faremo la nostra reggia il nostro vivente soggiorno perché vogliamo che egli resti nel nostro amore che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti